Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Allora in questa puntata stiamo andando avanti su Abandoned Metro Quindi siamo oltre la metropolitana che abbiamo fatto prima Quindi ci sono dei poveri zozzi che ne sono buttati lì a cazzo Dobbiamo scassarli di botte Però vi ricordo sempre che se volete fare questi su Amazon vi lascio sempre il link in descrizione Se volete abbonarvi ad Amazon Prime c'è sempre il link in descrizione Vi darò l'opportunità di avere 30 giorni di utilizzo gratuito Allora cambia la musica e a sto giro sto utilizzando il pad Per farvi vedere i comandi diversi lì Come sempre la traduzione in italiano non c'è per questo gioco Mi auguro che ci sarebbe qualche Un qualche DLC ma mi sa che Che cazzo fa quel coglione Ah è quello della security che sta pestando qualcuno Oh pezzo di me Stiu stiu Oh Stiu stiu Pecca putta Pecca putta Oh pezzi di merda Aspetta qua io lo so Eccolo qua che lo finisce Sbam Oh è rotto lì Sbam Mi ricordo sempre che sono i denti d'oro Figlio di putta Stiu 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 No Eeeh Oh 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 Madonna ci ha dato una salaccata incredibile questo Aspetta dovevo lanciare io Boo Sbam M***a ma mi ha tirato giù un casino di roba Di vita questo Allora Ha attivato il rage attenzione PAM PAM Uno BAM Vaffanculo Aspetta Vai che lo finisce così Orca troia Questa c'è Questa c'è la chiamina in base Eccolo lì che lo butta giù Oh si E' bella baratterata in testa vaffanculo Però nessun dente d'oro E anche qua Eeeh Il rat king Il re dei ratti Ah si chiama così l'altro boss Bene E' questo Che cazzo c'ha la mazzetta c'ha Minchia quella da carpentiere Orca putt Che ha dei heavy weapons Che ne sono i breakthrough Enemy blocks Ah ok possono rompere Eeeh Gli scudi O il blocco dei nemici più grossi Vabbè ci sta grazie al cazzo Ci vado con un martellino Questo ci va con la mazza Con la mazza della carpentiere Guarda ma l'ha già scassato Uuuu Minchia Aspetta aspetta Ti lancio le valigie Boo Ovviamente colpisce con la mazza Che cazzo devo fare? Lancia lancia le scatole K3 1 avevo finito Eeeh Uh si vabbè C'è pure quello con le scimitarre Ciao ne Sto livello quanto tempo devo giocare? Eh Eh L'avevo coltellare Dentro d'oro Dentro d'oro Dentro d'oro Devo finire prima questo Si vabbò Questo fa due colpi Uh Aspetta Minchia Minchia Mi colpisce uno Ah quello c'ha pure la mazza chiudata Eeeh Vabbè Minchia Qui c'ha quello con la mazza chiudata E' rotto il cazzo Sbam Minchia lo devo giocare un casino di volte a sto livello Sbam Paffanculo Gli lancio tutto Gli lancio E' rotto il cazzo Sbam Madonna Cosa incredibile Sbam Ok Vado Oh pezzo di Oh pezzo di merda Dente d'oro Dente d'oro Eccolo qua Eccolo qua Non ci credo Non ci credo Non ci credo Un colpo mi mancavo Un colpo Arriva il coglione con la mazza chiudata Avete rotto il coglione Scappa Eccolo lì No Ha volato via il martello No è impossibile È impossibile Sono già Sono già Vai Vieni trolley La valigia Sbam Bam Bam Ce l'ho dato da lanciare Oh Oh E questo Questa Si è bugata La Ma si era bugata Si è bugata L'impronta Della scarpa Trotto il coglione Lancii Lancii la roba Bam E sbam E sbam E sbam E la valigia E questo E quello Sbam Si lancio questo Pezzo di me Buh 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 Sbam Bellissimo Eccolo la Eccolo la Uuuu Uuuu Baa Via quello con la cimitaria Il dente d'oro è mio Di qua di qua Sembrava chiuso sto posto Invece no C'è anche sto posto qua Ah ok Ok Quello che cazzo c'ha Oh Caccia il tubo Un tubo da idraulico Qualcuno deve cambiare il tubo del lavandino Ci sto Eccolo Che cazzo è Plagber Eh chi Che cazzo fa Cosa si è messa l'adrenalina Che cazzo si è messa Uuuu Te lo do io Te lo do io il rage Bam Dente d'oro di là Io ho fatto saltare la testa Che problema c'era Ti faccio saltare la testa Ma che Me li ho rovinati Cosa prendo C'è l'imbarazzo della scelta Questo che cazzo è La sbarra di No Questo è il martello di Thor Dove vi andare Di qua Andare di qua Guarda che jet Sbam Oh Figlio di putta Bam No Bam Dove sei? Vai a fare in cu... Ma si sparavi? Oh Sbam Te la tiro in testa Non t'ho preso di più Ahah Dove vado? Di qua? Sì di qua Vai per carino il livello Sto sotto nella metropolitana Sbam Aiaiaiaiaiaia Sbam Eh vabbè quello lancio il mattone Pods Porca troia Dovevo buttarmi Pirati Miglio di pienso Guarda il enseñca che bordello Eh vabbè sente contro Quelle che cazzo Wow Prendilo Oh Aspetta Ah non sta ancora su quello Vai via Vai Ah beh giustamente Io ve l'ho completato Vediamo a quanto Best compo bonus Minchia valutazione solo di Guadagnato solo 2360 dollari Con 5 Denti d'oro Beh dai Allora dovrei aver sbloccato qualcosa su Skills upgrade Ehm Ah allora utilizzo questo qui Per acchiappare la gente devo capire qual è Allora ah acchiappa il tasto B si ok Acchiappa e poi light attack Va bene dai Sblocchiamo questo va bene va bene Ok molto bene ragazzi Questo piccolo episodio Piccolo insomma Mica tanto piccolo Ehm Questo piccolo episodio finisce qua Vi aspetto con lo prossimo episodio con Train Il tunnel dei treni Vi ricordo sempre che se volete abbonarvi ad Amazon Prime Con 30 giorni di uso gratuito C'è la possibilità di farlo seguendo il link in descrizione Oppure scansionando il curcone Che trovate in alto a sinistra E se volete fare acquisti su Amazon Utilizzate sempre il link che vi lascio in descrizione Seguite i miei social tra cui Instagram, Telegram e anche Twitch Dove streamerò quasi ogni giorno Al prossimo episodio Ciao Ciao